Ci risiamo, ne abbiamo scoperta un'altra ancora più atroce, la scoperta Morten Bering, non so se la pronuncio giusto, un account di un podcast danese, quindi si tratta di una persona, non di un giornalista danese, che fa una cronistoria incredibile di quello che è capitato all'Inter relativamente all'acquisto di bastoni. Bastoni strapagato a quei tempi in cambio di una valutazione monster per tre giocatori che non sono neanche più dei calciatori praticamente, sì esattamente qualche analogia con il caso Ozyman, ma leggiamo quello che ha detto traducendo dall'inglese il buon Morten Bering, infatti l'Inter ha acquistato Alessandro Bastoni dall'Atalanta per la cifra sbalorditiva di 31 milioni di euro. Attenzione, siamo nel 2017, quindi non stiamo parlando di bastoni che ad oggi 31 milioni li vale e come se li vale, ma stiamo parlando di un ragazzino che ancora non aveva praticamente dimostrato nulla, né tantomeno poteva valere 31 milioni di euro. Sembra proprio una grande scommessa. Beh, ovviamente, a meno che tu non abbia già concordato con il club venditore, che comprerà anche alcuni dei tuoi talenti a prezzi fittizi. Cioè, questo è proprio ciò che ci hanno insegnato le recenti sentenze, che stranamente hanno condannato soltanto la Juventus, e proprio corrisponde al fatto di una plusvalenza fittizia, perché tu stravaluti, gonfi, il valore di dei giocatori, in modo che poi lo scambio tra le parti sia vantaggiosa per entrambi. Allora, bastoni, alla fine è diventato un ottimo giocatore, ma 31 milioni di euro per un giocatore che aveva giocato appena 153 minuti di calcio professionistico è davvero un'atrocità. Ok, sintetizzo e non leggo tutto come viene scritto. Tuttavia, è davvero notevole che un club normalmente ben gestito come l'Atalanta, noto per avere una buona organizzazione di scouting, nel giro di 12 mesi finisca per spendere troppo e valutare male il talento non di uno, non di due, ma tre giocatori tutti dell'Inter. Quindi, l'Atalanta, che cosa vuole dire Morten? Vuole dire che l'Atalanta, stranamente, l'Atalanta che compra sempre giovani, fortissimi, giocatori che poi spesso diventano, vengono venduti a carissimo prezzo o restano nell'Atalanta per molti anni, ha preso non un abbaglio, non due, tre abbagli, comprando dei giocatori che non valevano praticamente niente e stravalutandoli. Ma andiamo avanti, allora, stiamo parlando di Fabio Eugelfi, Marco Carraro e Davide Bettella e lui dice, se non ne avete mai sentiti nominare, non vi preoccupate, nessuno sa chi siano questi giocatori, nessuno di questi giocatori ha mai giocato nell'Atalanta, addirittura nessuno di loro ha giocato neanche solo un minuto, neanche solo un secondo in Serie A. Eppure l'Atalanta li ha pagati 19,5 milioni di euro. Il Morten si rifà a quanto è riportato da Transfer Mart, che certo non è la Bibbia, ma abbiamo visto che viene utilizzato come parametro addirittura nelle sentenze della giustizia sportiva, quindi atteniamoci a quello che dice. Comunque, i tre giocatori a quei tempi, secondo il proprio Transfer Mart, avevano un valore massimo di 2,2 milioni di euro e invece sono stati pagati 19 milioni, 19 milioni e mezzo. Ok, allora, Eguelfi era valutato 400 mila euro, ma Atalanta e Inter hanno deciso che valesse ben 15 volte la valutazione di mercato, cioè 6 milioni di euro. L'Atalanta ha pagato Eguelfi all'Inter 6 milioni di euro. Non è una plusvalenza fittizia, no, no, assolutamente no. Carraro, valutato 800 mila euro da Transfer Mart, è stato pagato 5 milioni di euro, 6 volte la sua valutazione. Bettella, che a dire la verità era un giocatore che aveva talento perché già giocava nell'Under 21 dell'Italia, quindi in questo caso poteva avere anche un senso una sua valutazione. Infatti la sua valutazione era di ben 1 milione. Quanto è stato pagato? 8 milioni e mezzo. 8 milioni e mezzo. Cosa fanno questi tre calciatori? È un po' come il caso di Osime, no, in cui praticamente hanno smesso di giocare quei giocatori stravalutati dal Lille per acquisire Osime. Bene. Allora, Eguelfi è senza contratto, cioè quindi non fa più il calciatore, ok? Eguelfi pagato, lo ricordiamo, 6 milioni di euro. Non fa il calciatore. Carraro, pagato 5 milioni di euro, prova a giocare in Serie C, tenta un'esperienza in Serie C, in questo momento andate a vedere, andate a cercare voi la carriera di Carraro. Bettella gioca al Monza, gioca al Monza nel senso che fa parte del Monza, ma probabilmente solo perché la società non è riuscita a trovargli una squadra di Serie B o Serie C. Quindi il buon Bettella è l'unico dei tre che fa ancora il calciatore a 8 milioni e mezzo di euro. Per curiosità, andiamo a vedere, Bettella, quante presenze vanta quest'anno, ok? Visto che è un 23enne che gioca nel Monza, partite giocate 0, 0 minuti giocati. 0 minuti giocati per un calciatore valutato 8,5 milioni di euro. Quindi, se si sommano i quattro affari, 31 milioni contro 19,5 milioni bastoni è costato solo 11,5 milioni, che alla fine è il prezzo reale. Probabilmente bastoni doveva essere pagato 10, 11, 12, 15 milioni. Un prezzo che si addice a un ragazzo di talento, infatti è diventato un ottimo calciatore, calciatore che però non aveva ancora dimostrato niente. Quindi, come possiamo giudicare questa cosa? Beh, potremmo giudicarla in due modi. Potremmo fare come fa il buon Morten, facendo le congratulazioni ironiche a entrambi i club per aver ottenuto le entrate che servivano a entrambe le società in quel momento, perché le plusvalenze si gonfiavano. Per questo motivo. Perché? Perché era utile sia a chi comprava, sia a chi vendeva. È stato utile in questo caso sia per l'Atalanta che per l'Inter, ok? Come è stato utile? Alla Juventus con le plusvalenze che ha fatto con molte altre società. E poi invece c'è il modo, il giudizio un po' più malizioso che mi viene da dire. Ma perché per l'ennesima volta, l'ennesima volta, questa operazione non è stata attenzionata dalla procura sportiva, da mezza procura della giustizia ordinaria? E non c'è un giornalista che abbia detto, mentre c'erano i processi per la Juve, a dire, ragazzi, guardate, però ci sarebbe anche questo caso dell'Inter e dell'Atalanta. Perché almeno no, poi sai, i giornalisti potrebbero anche dire, sicuramente ci sarà una giustificazione, però pare valutare 19 milioni e mezzo, tre ragazzini che poi non sono neanche più diventati dei calciatori, qualcosa deve far scattare, qualche pensiero lo deve far nascere. Invece no. L'Inter non viene neanche messa sotto inchiesta da nessuno, né nella giustizia ordinaria né nella giustizia sportiva, non un giornalista che ne parli e ovviamente i tifosi che poverini, io davvero non me la prendo neanche con loro. Siccome vivono nel mondo dei sogni una sorta di Truman Show in cui fanno vedere soltanto le cose belle dell'Inter, perché leggono la gazzetta, guardano i giornali, guardano le trasmissioni delle televisione e dicono beh, ma noi siamo onesti, noi siamo puliti, vedete, gli altri fanno le plusvalenze fittizie, noi no. Gli altri erano coinvolti in calciopoli, noi no. Addirittura un poveretto, un povero ebete, mi ha commentato sotto il video che ho fatto l'altro giorno relativamente al possibile fallimento dell'Inter, ovviamente senza guardare il video e senza capirlo, perché io ho detto che l'Inter probabilmente non potrà fallire, mi ha commentato pensa a come gioca la tua squadra anziché pensare ai problemi economici dell'Inter, pensate che, poveretti, e quindi allora fatemi sapere perché poi i tifosi dell'Inter hanno sempre la giustificazione, sanno sempre trovare la motivazione, quindi per favore mi spiegate perché la Juventus ha sbagliato nella valutazione, ha gonfiato la valutazione, che ne so, di Orsolini, che pure è un ottimo giocatore nel Bologna che sta in zona Champions League, e invece l'Inter e l'Atalanta non sono attenzionate per questa ipervalutazione e di bastoni e di tre giocatori che non sono neanche più dei giocatori, tranne uno che però non gioca, perché poi si dice del Napoli, sì, ma almeno al Napoli c'è addirittura una procura che ha indagato, sta indagando, poi con i tempi suoi probabilmente non succederà niente, ma se non altro qualcuno si è chiesto, qualche giornale ne ha parlato, quando c'è di mezzo l'Inter, porca miseria, io è questo che non capisco, qualcuno mi dice, eh ma il tuo è un canale della Juve e parli soltanto dell'Inter, sì, perché io voglio capire, io voglio capire perché a voi non succede mai niente, ma non perché siate specchiate, abbiate una morale specchiata, no, fate le schifezze come le hanno fatte tutti gli altri, ma a voi nessuno ne parla, e quindi i vostri tifosi, poverini, vivono in questo Truman Show in cui sono convinti di essere gli unici onesti in un mondo di ladri. Parlatene con i vostri amici dell'Inter, taggate i vostri amici dell'Inter, digli, guarda qua, trovami la spiegazione, chiedi a Biasin, chiedi a tutti i vari giornalisti della Gazzetta dello Sport che difendono d'ufficio l'Inter, chiedi di parlargli dei buoni Eugelfi, Carraro e Bettella, ripeto, Eugelfi, Carraro e Bettella. Ciao, ci vediamo al prossimo video, iscriviti, commenta, grazie.